Seatore Zizza, nei giorni scorsi c'è stato il rilancio amministrativo nella città di Ustuni, c'è stata una nuova giunta, anche sponsorizzata dalla sua persona che ha voluto fortemente questo accordo politico per poter proseguire l'attività amministrativa e traendo le conseguenze subito dopo quello che è successo, che cosa ne pensi di questo accordo? Diciamo che io non mi sono opposto a questo tipo di giunta, primo perché Ustuni ha bisogno di un governo efficiente subito e né si poteva andare a fare un salto nel buio, secondo Coppola ha vinto le elezioni con il 65% dei suffragi dei cittadini ostunesi, ottenendo un grande risultato personale anche al di là delle liste che lo sostenevano e in questo anno non gli è stata data la possibilità a Coppola di governare perché non avendo i numeri un sindaco, io l'ho fatto e so che questo è motivo di grande problema non avere i numeri ad amministrare e quindi veniva logorato giornalmente dalla mancanza di un percorso amministrativo lineare che era quello composto da una maggioranza in Consiglio. Terzo, penso che possa essere una buona esperienza, era da tempo che si lavorava e tutti eravamo a conoscenza che si lavorava un accordo politico, questo accordo politico è stato fatto, adesso bisogna lavorare e risolvere i problemi di Ustuni. Venendo invece alla questione prettamente politica, nei giorni scorsi sono diversi i partiti che hanno dato il loro contributo a questa vicenda, una cosa particolare è emersa da Forza Italia. Forza Italia è un partner importante per il centro-destra di Ustuni e in tutta la provincia di Brindisi, io penso che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi bisogna lavorare perché anche Forza Italia possa dare il proprio contributo, noi lavoriamo per il centro-destra del futuro e lavoriamo per una giunta che possa risolvere i problemi di Ustuni, Ustuni è una delle città più importanti della Puglia e ha bisogno di un governo forte e adesso ci sono le condizioni per governare. Quali basi dovrà operare la nuova giunta? Intanto diciamo che la giunta è di altissimo profilo, di altissima qualità, dei professionisti, poi dobbiamo anche prendere atto che gli 11 consiglieri comunali che sostenevano Coppola compattamente hanno voluto continuare questo percorso amministrativo, quindi anche le liste di centro-destra che avevano vinto insieme a Coppola la campagna elettorale hanno dato a Coppola il loro contributo attraverso una rosa di nomi per la giunta e hanno detto a Coppola di continuare a governare. Quindi noi anzi dobbiamo ringraziare qui in questo anno come assessore di centro-destra perché questo anno nonostante il logramento la giunta Coppola ha lavorato bene, ha portato dei grandi risultati, ha avuto ottimi assessori, sia assessori politici sia assessori tecnici. Diciamo la verità, il centro-destra Ostuni ha bisogno di lavorare per formare una classe dirigente avendo una classe dirigente in futuro proproporsi direttamente a guidare da solo la città bianca. Adesso con questa qualità di giunta e con il contributo di tutti noi e soprattutto di chi vuole il bene di Ostuni e dei consiglieri comunali che la sostengono potrà sicuramente portare avanti quei 4-5 punti importanti. Penso ad esempio ai problemi del porto di Ostuni. Il porto di Ostuni è uno dei porti più importanti che ha bisogno di essere rilanciato e quindi bisogna dare tutti insieme la giunta e gli amministratori e anche i parlamentari un contributo perché il porto riparta. Così come tanti grandi obiettivi, penso a quello dell'ambiente, penso al rilancio della città bianca a livello turistico, c'è da lavorare. Ripeto, in questi anni la giunta nonostante le difficoltà dei numeri in consiglio comunale ha avuto dei grandi risultati e bisogna ringraziare tutti quegli assessori. Adesso anche con il loro contributo bisogna lavorare perché la nuova giunta possa raggiungere dei grandi obiettivi e poi si vedrà la politica nel tempo può dare anche svolte diverse. In questo momento siamo tutti favorevoli perché Ostuni venga governata bene e che Coppola, avendo vinto l'elezione a grande maggioranza, possa governarla in serenità.